buonasera a tutti dico buonasera perché è sera e anzi è notte proseguiamo anzi concludiamo al tour de force di schedine bollettine marcatori eccetera con i tiratori della serie a cioè quei calciatori che tireranno almeno una volta in porta nelle partite che si disputeranno mi stavo morsicando una lingua la lingua non una la lingua stavo dicendo i giocatori tireranno almeno una volta in porta nella giornata di oggi ormai siamo già sabato e di domani e anche di lunedì perché c'è anche la partita del monday night anche in italia comunque tiratori per spezia crotone per lo spezia ricci e maggiore maggiore e per il crotone petriccione petriccione e benali proseguiamo con parma milan per parma per il parma certo ernani e kurtic per il milan sale mecher sale mecher e benasser che fanno rima udinese torino giocatori che tireranno almeno una volta in porta aslan e molina per l'udinese buongiorno nel senso proprio di buongiorno visto buongiorno mi ha chiappato questo nome qua buongiorno magari è il figlio di un parente di del mitico comunque buongiorno e mandragola per loro per il torino appunto giocatori che tireranno una volta in porta intercagliari mi arrischio gagliardini già mi viene da piangere ma ci proviamo gagliardini che tira in porta ed ericsson per il cagliari sto sempre sul classico nandez e marin veniamo a verona lazio giocatori che tireranno almeno una volta in porta per il verona veloso e lazovic per la lazio fares e milinkovic savic visto che ho messo marcatore gigione alberto mettiamo tiratore milinkovic savic proseguiamo con juventus genoa per la juve giocatori che tireranno almeno una volta in porta danilo e rabiot non ho messo va bene c'è r7 di bala eccetera abbastanza certo pagano 1 e 10 1 e 20 cose così anche no quindi rischiamo su danilo e rabiot e per il genoa rovella attenzione al futuro visto che l'hanno acquistato arriverà l'anno prossimo alla juve rovella e badeli proseguiamo con sandoria napoli per sandoria napoli per la sandoria ho scelto come giocatore che tirerà almeno una volta in porta anzi giocatori danzmar damsgard e a skillsen per la samp ho scelto i due stranieri più più col nome astruso e per il napoli politano e zielinski due giocatori che comunque tirare tirano soprattutto zielinski politano tira ma a centrare la porta un po più difficile roma bologna ho scelto karsdorf e diavara per la roma swamberg e scovolsen per il bologna proseguiamo con fiorentina atalanta come tiratori sempre stiamo parlando di tiratori giocatori che tireranno una volta almeno in porta per la fiorentina dico am barabacici con co am rabat e castrovilli per l'atalanta freuler 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 e gosens concludiamo con la partita del monday night partita che dovrebbe regalare si spera emozioni che non facciano uno squallito pareggio 0 a 0 eccetera perché se non poi mi girano i testi e mando le maledizioni scherzo si scherza naturalmente comunque per il benevento schiattarella e ionita per il sassuolo locatelli e araslin scelto così araslin mi acchiappava araslin che tira almeno una volta in porta ho detto proviamo questo araslin chi lo sa magari insegna pure comunque detto questo abbiamo concluso finalmente il venerdì è proprio mi piace perché mi piace fare le schedine bollettine eccetera stare lì guardare brigare controllare vedere eccetera eccetera però quando ce ne vuole ce ne vuole ho passato devo dire tutto il pomeriggio a fare quello praticamente poi la sera ho tirato un po' di scleri vari alle partite che si sono disputate del venerdì sera anche perché è l'unica che non ho potuto vedere quella che ha fatto quattro gol 3 a 1 del del adesso non mi ricordo l'uesca contro l'altra squadra che non mi sovviene c'è stata la vittoria comunque della squadra che era indietro in classifica e quindi che ha sorpassato quella che gli stava davanti era la diciassettesima contro la sedicesima se non ricordo male e ha vinto quella che giocava in casa e quindi la quella che era anche dietro e che quindi adesso ha fatto il balzo in avanti e ha messo l'altra all'inferno come si suol dire va bene ragazzoli abbiamo concluso posso andare a fare la ninna nanna forse vedremo chi lo sa e ci vediamo con i prossimi video che domani anzi oggi pomeriggio ci sarà da fare un po' di cosine preparare un po' di cosine devo fare don gigi inter che torna don cherubino torna anche lui dopo la pasqua dopo la sosta eccetera eccetera tornano i miei pretini e poi vedremo cosa fare sapete benissimo che le partite ha giusto ciò da parlare delle partitine di serie a le tre partitine che si giocheranno sabato cominciamo già ad accennare qualcosa forse o forse no perché di solito preferisco sempre farle quando ho il quadro completo della situazione farmi poi il riepilogo della di tutta la situazione con la classifica quindi no dovrete aspettare che si disputerà l'ultima partita lunedì sera perché possa fare tutto l'epilogone quindi niente mi sono dilungato troppo chiedo venia ma quando inizia a ciaculare come dicono a milano testedere a ciaculare e poi dopo non mi fermo più ciao 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 ciao